Allora cari telespettatori, come vedete alle mie spalle, prepariamoci, finalmente entriamo nella bella stagione, prepariamoci ad andare in vacanza ai Lidi di Chioggia, ebbene sì, sono delle zone straordinarie per bellezza naturalistica, per un mare che comunque è veramente eccezionale e poi perché offrono tanto, tanto, ne abbiamo parlato anche in passato, ma non si finisce mai di scoprire questo territorio, anche perché gli operatori del settore turistico di questo territorio non è che sono stati con le mani in mano ad aspettare le varie vicende e vicissitudini del destino, si sono dati tanto da fare e hanno cercato di rendere la zona di Chioggia sempre più attraente, sempre più particolare, appetitosa, per far sì che tutti i turisti che possano recarsi, anche per poco tempo, per periodi più lunghi, essere grandemente soddisfatti, sorpresi e soprattutto emozionarsi, e la parola emozione sarà il leitmotiv di quest'estate ai Lidi di Chioggia. Per parlare di questo, per vedere anche delle belle immagini, abbiamo i nostri protagonisti e ve li presento subito. Ben ritornato dottor Paolo Boscolonale, vice di Asa, ben arrivato qui con noi. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Grazie dottoressa Elena Boscolonata, presidente consorzio di promozione turistica Lidi di Chioggia, grazie di essere qui anche a lei, ben ritornata. Ben ritornato al dottor Giuliano Boscolocceggion, presidente Asa Federalberghi Sottomarina Lido di Chioggia. Buonasera a tutti. E ben ritornata alla dottoressa Francesca Pinelli, direttrice Marketing Promotions Lidi di Chioggia, grazie anche a lei. Grazie, buonasera a tutti. Grazie molto. Allora, io direi di iniziare a raccontare ai nostri telespettatori, innanzitutto come si presenta questa stagione, perché è vero, noi tante volte, mi rivolgo a lei presidente, parliamo con presidenti di associazioni di categoria, in modo particolare del settore turistico, e lo facciamo in modo abbastanza critico, provocatorio, perché? Perché tante cose non sono andate come volevano, perché ci sono stati i provvedimenti che hanno penalizzato il settore, un comparto così, però il vostro, tutto sommato, secondo me, forse riesce a cavarsela meglio di altri, anche nella passata stagione, sì, magari incomincio un po' più tardi, stavolta forse anche no. Che segnali ci sono, insomma, raccontiamolo perché voi siete più positivi, cioè ogni volta che lo sento al telefono, come va? Tutto benone. E questo mi, no, guardi, veramente mi riempie il cuore, allora riempiamo il cuore anche dei nostri telespettatori. Certo, allora il nostro compito è creare emozioni, creare diversivi, creare spensieratezza, creare vacanza. Questo ci aspettano i visitatori, i futuri turisti che verranno nella nostra località. Noi ci stiamo preparando su questo, proprio con un sistema veramente innovativo e dopo ne parleremo magari più profonditamente. Però possiamo già dare alcuni dati, dati molto importanti, che questa settimana, proprio questa settimana, quando si è innescato tutto quel discorso delle chiusure anche anticipate, delle 22, noi fortunatamente sotto Marina Chioggia abbiamo avuto una controtendenza. Una controtendenza perché il nostro target, la nostra qualità, il nostro prodotto che riempiamo è garantito sicuro e nonostante magari che si possa pensare a una chiusura delle circolazioni alle 22 e alle 23, per noi non ha portato nessun riflesso negativo. Sì, che possiamo dire che stiamo andando bene. L'andamento sta andando bene, questo è molto importante. Voi avete notizie, cioè flussi anche dall'estero, soprattutto da che zona, da dove vengono? Diciamo che la battuta d'arresto fondamentale è venuta esclusivamente da Austria e Germania. Che sono un po' in crisi adesso. Che sono in crisi per il lockdown e hanno avuto delle problematiche proprio interne loro, sicché automaticamente ha bloccato le prenotazioni verso il nostro territorio. Però voglio diciamo approfondire anche il target della nostra clientela. La nostra clientela è all'80-70-80% nostra Veneta, Lombarda, Trentino Alto Adige. Abbiamo un target di famiglie perché la nostra località è una qualità sicura, è una qualità che offre tantissimo per le famiglie e di conseguenza essendo nostri concittadini, conregionali non abbiamo avuto un grande arresto di prenotazioni, anzi forse abbiamo una ripresa nei confronti dell'anno scorso, non siamo ai numeri del 2019 ma ci difendiamo bene. È appena incominciato in un'altra parte, ci hanno appena liberato per cui uno comincia adesso a ragionare, a vedere qualche prospettiva. Giusto, però le prenotazioni da noi sono cominciate già a febbraio. Ah, addirittura. Sì, sì. Noi già da febbraio stiamo già macinando. Perché poi tutto sommato, bisogna anche tenere conto di questo, che uno gioca sul sicuro, perché anche ti limitassero, vabbè non sarà così, facciamo tutti gli scongiuri se no mi dicono che faccio il melagramo, ma anche ti limitassero in regione, giochi sicuro insomma se stai in regione ho un imitrofo, quindi dovresti essere abbastanza tranquillo a un certo punto, no? Quindi tutto sommato, per quel che riguarda sempre queste strategie turistiche voi avete scogitato qualcosa anche per legare le persone al territorio, no? Sì, beh, è chiaro. Abbiamo puntato quest'anno, puntiamo tanto come, e poi ne parleranno magari i miei colleghi che sono loro specializzati su questa cosa, proprio seguono all'interno della nostra associazione, diciamo, questi settori che è la sicurezza, eccetera, eccetera. No, ma quello dopo ne parliamo. Ne parleremo dopo. Che è molto importante per incentivare la prenotazione perché diamo la sicurezza. Ma noi quest'anno abbiamo puntato tanto agli spazi, all'aria aperta, anche nonostante che si pensi che l'albergo sia un fabbricato, ma noi ci stiamo tanto portando all'aria aperta, utilizzando tutti gli spazi, le escursioni, tutte quelle attività che possono essere fatte all'aria aperta, per poi ricondurre il turista all'interno dei servizi di qualità che offrono gli alberghi. Sì che il turista nostro, avendo messo un mix tra albergo e attività sportive o di passeggiate esterne, lo abbiamo convinto e lo abbiamo invogliato alla prenotazione a Chioggia. E questo ci ha portato i buoni risultati. Alberghi che sono stati anche, diciamo, hanno avuto un restyling, no? Sì, siamo in continuo restyling perché ogni anno ce ne sono sempre che si ammodernizzano. E stiamo aspettando anche una cosa molto importante e vedo che c'è tanta collaborazione da parte della Regione Veneto e di nostri rappresentanti, anche i regioni, i nostri parlamentari, stanno lavorando col Ministro Garavaglia, stiamo lavorando per il bonus facciate, per estenderlo anche agli alberghi e per estendere anche il bonus 110 anche alle partite IVA. Noi confidiamo tanto sui nostri parlamentari, indipendentemente anche dal colore perché stanno lavorando bene in squadra con il governo. Ma sarebbe una cosa utilissima perché danno una veste innovativa a una località, perché all'estero peraltro queste cose si fanno. Queste cose si fanno. Invece quindi noi restiamo sempre indietro e d'altra parte c'è bisogno di un supporto per poter attivare i lavori. C'è la Fidelity Card che è un'altra iniziativa interessante, l'abbiamo accennato anche tempo addietro ma forse non è ancora così conosciuta, così nota, bisogna spiegarla bene e spingere su questa Fidelity Card. Che cos'è? Grazie per avermi introdotto a questo argomento. La Fidelity Card sta andando molto bene con la collaborazione tra la ristorazione, tra chi fornisce i servizi, il commercio. Cioè l'obiettivo nostro è incentivare il commercio di vicinato. Cioè non si deve pensare ai centri commerciali ma l'acquisto vicinato, specialmente per i nostri turisti che verranno a visitare la nostra località, dovranno passare il loro tempo, le loro passeggiate, speriamo non 22, 23 o mezzanotte, speriamo che siano un po' più lunghe, però dovranno passeggiare all'interno della nostra località. Nei negozi che saranno affiliati alla Fidelity avranno la possibilità di avere degli sconti e questo è molto importante. Però una novità che sta avvenendo proprio in questi giorni, sempre tramite gli accordi di Fidelity Card, con il Delta del Po stiamo organizzando una super escursione naturalistica che verrà data gratuitamente a chi utilizzerà la Fidelity Card, però dentro un certo numero di, è come una lotteria diciamo, stiamo organizzando anche questo. Vuol dire che chi avrà la Fidelity Card numero a Campione avrà la possibilità di fare queste escursioni gratuite nel Parco del Delta del Po e la stiamo promozionando anche di mercati di tutto il nord Italia. Parlo sempre tramite i social Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e questo vediamo che abbiamo telefonate nel nostro call center della nostra sede operativa e abbiamo un riscontro su quello che noi stiamo proponendo. È questo che ci porta a avere più prenotazioni. Assolutamente, anche perché poi bisogna dirlo, la possibilità, la vicinanza alla zona del Delta del Po è veramente un'opportunità pazzesca per vedere un habitat diverso, per staccare, perché Sottomarina ha delle sue peculiarità, l'area del Delta ne ha altre, quindi anche dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, tante persone non la conoscono. Confermo e anche confermo che la gente, assentore, perché poi abbiamo fatto anche di test che poi vi spiegherà anche il nostro Vice Presidente, perché le campagne che noi facciamo promozionali sono fatte anche nel senso di dare quel benessere, come dicevo prima, ma anche quello che il cliente chiede. Il cliente cosa chiede in questo momento qua? È rimasto chiuso per sei mesi a casa, chiede spazi aperti, chiede natura, chiede sole, chiede aria, chiede tutto quello che noi offriamo con la collaborazione col Parco del Delta del Po. Assolutamente, questo è molto importante. A questo punto, visto che l'ha chiamata in causa, le do la parola. Che cosa avete fatto? Che tipo di analisi avete effettuato? Beh, noi comunque abbiamo rimesso in campo il protocollo Accoglienza Sicura, protocollo stilato assieme all'Associazione Nazionale Federal Berghie, già applicato nel 2020, lo abbiamo riapplicato nel 2021, andando ad analizzare nei punti più specifici l'aspetto salute, che è quello che il cliente deve sentirsi sicuro all'interno delle nostre aziende. È bene anche menzionale l'anno scorso un elogio a tutti gli operatori turistici del territorio di Chioggia Sottomarina, soprattutto anche agli alberghi, perché comunque non si sono verificati i casi di Covid, né all'interno dei nostri dipendenti, né tantomeno all'interno anche della clientela che abbiamo avuto nella passata stagione. Per cui questo cosa vuol dire che sono stati applicati giusti protocolli, giuste linee di sicurezza, che verranno comunque applicati anche quest'anno, sempre seguendo il medesimo protocollo, con una maggiore attenzione ancora di più sempre alla salute. Quindi andando anche a investire su prodotti che sono proprio dati dal presidio medico chirurgico, che sono proprio quelli che evitano la diffusione e il contagio del coronavirus. Saranno necessari, perché poi ci sono chi la prende più alla leggera, magari che è anche una certa età più giovane, chi la prende un po' più pesantemente, le famiglie, però per riscindere che poi si spera che questi vaccini dilaghino, dovrebbero arrivare a coinvolgerci. Però ci sono i reticenti e sono anche molti che sono i cosiddetti nonni, i settantenni, una 30% che non si vuole fare il vaccino, ma vuole stare in posti sicuri. Avrete anche dei controlli per questo? Controlli quindi sul fatto che vengano rispettate le regole in qualche modo? Allora, comunque sì, noi abbiamo gli organi di competenza che fanno parte dell'Unità Locale Sociosanitaria Territoriale, che vengono a farci controlli come nella stagione passata presso le nostre strutture, che vengono proprio applicate al protocollo di accoglienza sicura, quindi che siano indossati dispositivi di protezione individuale e anche presso le persone che lavorano e anche presso le persone che sono alloggiate presso la nostra struttura, per cui anche noi stessi dobbiamo essere rigorosi nel far applicare questo protocollo, perché la salute del singolo è il benessere sociale. Assolutamente, questo è fondamentale, lo dico perché poi abbiamo anche noi ricevuto diverse mail da parte di persone che hanno una certa età e che sono molto attenti a questo, per cui vogliono che ci siano delle garanzie, voi le date appunto con questo protocollo che vi siete dati sostanzialmente. Esatto, esatto, sono fondamentali per una stagione completa relax ed è quello che vogliamo noi, che il cliente arrivi nelle nostre strutture e si senta tranquillo, relax, e quindi con una maggiore attenzione alla salute questo sicuramente sarà garantito. Tra l'altro a proposito di protocolli eccetera, c'è anche il bonus vacanze esteso anche quest'anno, ricordiamolo perché alcuni pensano che non ci sia quest'anno, invece, e poi voi ha fatto una bella parte importante per questo, no? Sì, certo, sì, abbiamo avuto un buon riscontro nell'anno passato, lo stiamo avendo tuttora per la stagione 2021, il bonus vacanze può essere, è stato esteso l'applicazione fino al 31-12-2021. Cosa si deve fare? Che consiglio si sente di dare a questo proposito per accedere al bonus vacanze? Tanto più che l'ISE devono farlo tutti quelli che hanno i figli, per questo punto per avere l'assegno eccetera, per cui lo fai, già che lo fai, hai fatto l'ISE, puoi vedere se accedi al bonus vacanze. Esatto, 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 il proprio punto di riferimento CAF, dalla polidisponibilità su quanto può ricevere come importo e dopodiché basterà telefonare alle strutture, ecco, la maggior parte delle strutture breghe di sottomarina, proprio anche sull'indicazione della nostra associazione, sono pronti, esatto, sì, esatto. Quindi chiedere, informarsi, farsi casomai supportare, aiutare, l'importante è fare il passo preliminare, quando si chiede l'assegno per i figli, famoso, usare l'ISE anche per il bonus vacanze. Sì, una volta ricevuto il bonus vacanze poi la procedura non è poi così complessa, perché basta scaricare l'applicazione dove si riceve il codice del bonus vacanze all'interno del proprio smartphone e poi presentarlo alle strutture recettive, poi le strutture recettive nostre sono già esperienziate su questo, quindi il passo più grosso lo deve fare il cliente, i nostri alberghi sono pronti ad accogliere questa richiesta. Allora, mi viene in mente, perché mentre parlo mi è venuta in mente una meca era arrivata che era anche interessante, chiedeva a proposito della Fidelity Card, chiedo a lei Presidente, dopo non so chiedevi due, come ottenere la Fidelity Card, da quando inizio, poi lei diceva aveva accennato la volta precedente, ma non lo so, per cui i nostri telespettatori fanno riferimento magari cose, precisiamole, che ci sono anche degli sconti, delle agevolazioni per i negozi, o ci sono dei ristoranti che aderiscono, ci dica due o tre cosette tecniche. Allora, la Fidelity Card viene data a chi fa la prenotazione al momento del check-in, vuol dire... Quando c'è il check-in fisico, quindi non è un'applicazione che arriva sullo smartphone? No, viene fatta al check-in, in alternativa può essere inviata al momento della prenotazione online, gliela possiamo dare in forma digitale, che poi viene data in forma, in PVC, insomma, in formato reale, quando si presenta poi alla reception dell'hotel. E la possibilità poi di capire su che ristoranti, su che locali andare, su che tipo di pubblico esercizio, lo trova all'interno del concerto digitale dentro la reception, su delle brochure particolari che faremo e in continuazione, tramite le tv nostre nelle camere o nelle reception, diamo sempre informazione continua su quelli che sono i negozi convenzionati. E questo lo facciamo anche esteso in tutta la spiaggia, cioè parlo di costa, mi scusi, volevo precisare costa, perché arriviamo fino a Rosolina, perché attività di Rosolina, anche alberghi di Rosolina, sono convenzionati con noi, sono i nostri soci, sì che noi, e anche i campeggi, sì che noi questo tipo di servizio lo estendiamo su 23 chilometri di costa Veneta. Cioè siamo i primi a avere creato una macroarea, che sarebbe la famosa macroarea della Laguna Sud. Non l'abbiamo creata con la legislazione regionale, politica, nazionale, l'abbiamo creata nel sistema del commercio, grazie all'aiuto importante che ci ha dato la Camera di Costanza. del commercio di Venezia Rovigo. E questo è importantissimo dirlo, perché effettivamente ha abbracciato un territorio molto, molto ampio. 23 chilometri di costa, noi ci siamo. Ci siamo, ci siete con l'accoglienza sicura, vero? Quindi è una cosa... Ci siamo, sì, sì. Che cosa vuol dire? Ne ha già accennato, adesso qua stiamo vedendo delle immagini che fanno vedere, secondo me sono molto primaverili di questo periodo, perché poi d'estate pullula di persone che si divertono al mare. Adesso qua ci fa rilassare, puoi vedere l'acqua così. Sì, è bellissimo. Accoglienza sicura, perché comunque allora noi, tutte le nostre strutture seguiranno il protocollo che prima il vicepresidente Paolo Buscolonale ci ha detto. Accoglienza sicura, perché arrivano su delle strutture sanificate, ci sarà la pulizia e quindi il cliente si sentirà anche un po' più a suo agio, più sicuro, più sicuro e poi perché quando il cliente arriva nelle nostre strutture trova la cordialità, quella che prima accennava all'inizio, cioè il cliente viene e trova l'allegria, trova la spenseratezza, trova il gestore che interagisce con il cliente e lo rende quasi come a casa sua, quindi lo mette a suo agio, senza creare patemi. E quindi uno si deve lasciare a casa. Esatto, sì. E quindi noi puntiamo tanto su questo. Dopodiché il nostro mare non è solo sicurezza, pulizia, cioè offre tanto e tanto di più. Basti pensare alle proprietà della sabbia e anche alle proprietà dell'aria, che sono molto, molto importanti. Ecco, è famosa la spiaggia di Sottomarina perché ci si abbronza, si diventa carboncino, no? Ci si abbronza tantissimo, esatto. Perché ci sono dei cristalli nella sabbia che hanno queste proprietà riflettenti, oltre all'aria che è particolarmente iodata, no? Esatto. Allora, questi minerali sono l'augite, la silicite e il quarzo. Cosa fanno? Allora, la nostra sabbia finissima è piena di questi minerali. Questi minerali non sono altro che sono come dei piccoli specchietti che riflettono il sole. Quindi cosa succede? Quando uno si mette sul lettino a prendere il sole o sul bagnasciuga, allora lì c'è anche il discorso del riflesso del mare, quindi ancora di più, riflettono il sole. E quindi ti fanno abbronzare in una maniera molto più veloce, ma questa abbronzatura anche poi ti rimane più a lungo. Non è, mi abbronzo oggi e dopo due o tre giorni non ce l'ho più, rimane un po' più nel tempo. Infatti i nostri clienti, i padovani, i vicentini, i veronesi, vengono soprattutto nelle nostre spiagge perché sanno che in poco tempo possono avere una abbronzatura da tropici. Se l'hai già abbronzata. Io sono già abbronzata e non ho fatto fatica perché semplicemente camminando con il cagnetto un'oretta al giorno, alla mattina, con il riflesso del sole che rispecchia sull'acqua e con questi minerali io ho preso questa abbronzatura. Naturalmente, bisogna sempre stare attenti perché comunque è fondamentale la protezione e soprattutto sotto l'ombrellone perché ci si abbronza anche sotto l'ombrellone. Perché questi specchietti... Questo è importante, sì, è vero. Eh sì, perché tanti non lo sanno. Io sto sotto l'ombrellone e poi mi sono scottato per forza perché il sole, ok, l'ombrellone ripara, ma dal terreno questi specchietti riflettono il sole e si rischia, se non si viene protetti, una bruciatura, insomma una scottatura. Infatti è vero, bisogna stare sempre molto cauti perché poi la salute... No, no, è importantissimo, importantissimo quindi utilizzare la caramanzi. E ricordiamo l'aria poi. L'aria. Perché questa è un toccasana. Questo è un toccasana. Abbiamo parlato da volte che voi avete portato anche dei medici, però è vero, io sono testimone vivente di bronchiti curate incredibilmente camminando su bagnosciuga. Un centro benessere all'aperto perché comunque respirando l'aria iodata del nostro mare è come se ci facessimo tutti i giorni un aerosol naturale, quindi chi ha problemi di respirazione sinusite... Chi ha avuto problemi col covid. Chi ha avuto problemi col covid, quindi deve fare un recupero con l'aria del mare nostra. Tutte le aree del mare fanno bene, però la nostra è una concentrazione di odio così tanta che avvelocizza anche il recupero. Ma anche per chi non ha avuto questa patologia per rinforzare le nostre difese immunitarie. È importantissimo, cioè tu ti fai una carica di ossigeno, diciamo, e ti salvaguardi il proprio fisico. Poi comunque ci abbini una passeggiata. Dopo raccontiamo cos'altro puoi fare perché non finisce qui. Sì, la classica passeggiata, perché comunque il mare va bene a tutti. Oppure chi vuole un po' impegnarsi un po' di più... Dopo lo diciamo. Ah, lo diciamo dopo. Stop, lo diciamo dopo. Allora, pubblicità pochi secondi, vi tengo sulle spine perché è anche piacevole questo. Pubblicità, poi ritorniamo insieme. Allora, pubblicità, poi ritorniamo insieme.